eccoci qui mi trovo insieme a un grande campione muzzi ciao 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 ecco qui oggi siamo qui per un evento molto importante sì sì siamo qui per leo tutti insieme per leo è una cosa che mi fa tantissimo piacere per dare una mano e forza leo diciamo tutti quanti forza leo siamo tutti con te dai e leo dai e lo che ce la farai dai ti ringrazio ciao ciao ciao